Anche in questo caso, sempre con un po' di barba lunga, sono qua per promuovere il DFD di domenica 10 marzo, fortunatamente coincide con l'unica finestra di bel tempo che abbiamo in queste decine di giorni, per cui turni per le macchine stradali, turni per le vetture formula dove avremo insomma una buona fluenza di Predator e di Junior, per cui anche in questo caso vi aspettiamo numerosi e incrociamo le dita per il bel tempo perché pare proprio che ci sia bello, ciao ragazzi!